Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. È acceso anche in Abruzzo il dibattito sul gender nelle scuole. Il no all'insegnamento di questa teoria nelle scuole abruzzesi è contenuto in una risoluzione con primo firmatario Paolo Gatti, consigliere regionale di Forza Italia, approvata a larghissima maggioranza in quarta commissione regionale, quella cioè sulla sanità. Unico voto contrario quello del Movimento 5 Stelle. La risoluzione impegna il presidente della regione a sottoscrivere un apposito protocollo di intesa con l'ufficio scolastico regionale per sancire questo divieto. Nessun intento discriminatorio nei confronti degli omosessuali, precisa Gatti. Quello che si sottolinea è che tale teoria non ha senso farla diventare materia di studio a scuola. Ma sull'argomento si registra la reazione dell'assessore regionale alle politiche sociali, Marinella Sclocco, che parla di proposta offensiva, fuorviante e frutto soltanto di una strumentalizzazione che tira in ballo la scuola. Intanto però crescono le adesioni al Family Day previsto a Roma il prossimo 30 gennaio. Ieri molti cattolici abruzzesi hanno presenziato all'incontro che si è tenuto ad Ancona presieduto da sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, vescovo di Ancona Osimo e d'arcivescovo emerito di Chieti Vasto, secondo cui è urgente manifestare contro il disegno di legge Cirinna sulle unioni civili per difendere i diritti dei più piccoli e dei più poveri. Ricordiamo la presa di posizione di molte associazioni, tra cui quella dei giuristi per la vita, che con molteplici convegne e iniziative su tutto il territorio nazionale stanno parlando del gender, di che cosa significa e di quanto sia radicato e pericoloso nella nostra società. Questo è quello che sostengono queste associazioni. Cambiamo argomento. La riforma sui porti approvata dal governo Renzi, che ha visto Pescara e Ortona sottomessi all'autorità portuale di Ancona, rappresenta il fallimento della politica del governatore D'Alfonso, una politica giocata sulle chiacchiere smentite dei fatti. Grazie ai rapporti e alle relazioni istituzionali del presidente, da oggi il capoluogo adriatico perde la sua autonomia e finisce sotto l'egida delle Marche, un risultato che difficilmente D'Alfonso riuscirà a cambiare a discapito dell'Abruzzo. La prossima settimana presenteremo subito un'interrogazione urgente, lunedì in Consiglio Comunale, martedì in Consiglio Regionale. Lo dice Forza Italia. La regione Abruzzo ha presentato il nuovo piano regionale delle attività estrattive, redatto con Abruzzo Sviluppo S.p.A. Il piano cave torbiere, atteso da circa 30 anni, è uno strumento di regolamentazione ispirato al principio dello sviluppo sostenibile e non ha quindi natura di piano urbanistico in senso stretto, ma di portata regolamentare. Dal censimento svolto nel 2012 e aggiornato nel 2015, in Abruzzo sono attive 265 cave e due miniere, mentre i siti dismessi sono 499. La giunta regionale abruzzese ha individuato Armando Mancini, quale direttore generale della ASL di Pescara. Ora si dovrà attendere la stipula del contratto. Il manager uscente, Damario, ha comunicato al presidente della regione D'Alfonso le dimissioni che sono state accettate. Mancini è uomo di notevole levatura, tanto che lo volli con me, assessore, quando divenni sindaco di Pescara, commenta D'Alfonso, ricordando, oltre alla competenza in materia sanitaria, che il padre Antonio fu primo cittadino a Pescara dal 1956 al 1963 e deputato dal 63 al 76 e contribuì insieme al Vescovo Iannucci alla Fondazione dell'Ospedale Civile di Pescara. Si apre con lo slogan Ci vuole il sorriso, il corso di primo soccorso 2016 organizzato dalla Misericordia di Pescara e che prenderà il via martedì prossimo, 26 gennaio, nella sede di Via delle Fornaci. Tre mesi circa di lezioni intensive, teoriche e pratiche aperte a tutta la cittadinanza per apprendere le nozioni principali per effettuare manovre d'emergenza in caso di necessità e soprattutto diventare volontari della misericordia. Ne parleremo a servizi di interviste. Si svolgerà a Montesilvano l'edizione numero 11 della Marcia per la Pace diocesana dal titolo Vinci l'indifferenza e conquista la pace. Il tema della marcia riprende il messaggio per la 49esima giornata mondiale della pace che si celebrerà il primo gennaio 2016, anzi si è celebrato, scusate, il primo gennaio 2016, voluta questa giornata da Papa Francesco con il testo completo di questa esortazione che è stato diffuso il 15 dicembre. alle 19 domani ci saranno il ritrovo e la partenza presso il Palassenna di Montesilvano. La marcia si concluderà in Piazza Diaz, la piazza cioè del comune a Montesilvano. Chiamati ad annunziare le opere meravigliose di Dio e questo è il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, iniziata il 18 gennaio, l'Arcidiocesi di Pescara Penne chiuderà la sette giorni aperta con una veglia ecumenica delle cinque chiese cristiane con il Vespro Solenne secondo la tradizione della chiesa ortodossa rumena. presiederà la celebrazione prevista nella chiesa dello Spirito Santo di Pescara lunedì alle 19.30 l'arciprete ortodosso padre Iarca Alin. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo coperto con nebbia temperature di circa 7 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo nuvoloso con temperature di circa 4 gradi e 20 deboli. domani si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattino coperto in tarda mattinata nuvoloso nelle ore centrali e nel primo pomeriggio sereno nel tardo pomeriggio e nuvoloso in serata con temperature da 4 a 9 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino coperto dalla tarda mattinata al primo pomeriggio sereno nel resto del pomeriggio e da coperto a nuvoloso in serata con temperature da 3 a 7 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto poco mosso stasera e calmo domani e con queste previsioni del tempo noi ci salutiamo da Massimiliano Spiriticchio alla microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne grazie, risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!